Ciao a tutti, questo sarà un video breve oddio, sembro storta, ma in realtà è storta la webcam vabbè e quindi video totalmente così senza un senso un video di ringraziamento un video di ringraziamento perché mi sono accorta l'altro giorno che abbiamo superato le 100 iscrizioni al canale e abbiamo fatto impressione perché il nostro è un canale piccolino nato così per giocare puramente per giocare ovviamente non abbiamo fatto grande pubblicità non abbiamo fatto giveaway non abbiamo mai fatto video tag non abbiamo fatto collaborazioni abbiamo lasciato questo nostro canale niente, da parte così solo per pochi intimi e ho visto che questi pochi intimi sono diventati più di 100 e quindi dicono però ci sono 100 persone che mi interessa stare a sentire cosa dico e niente mi ha fatto strano e mi ha fatto ovviamente piacere mi fa piacere che magari mi interessi sapere cosa ne penso su alcune cose o vedere magari dei look dei make up che ogni tanto faccio e niente niente che l'hai fatta a fare sto video niente niente nel senso volevo ringraziarvi tutto qua volevo ringraziare i nostri iscritti che ci seguono continueremo sicuramente a scrivere sul blog i video come avete visto se qualcuno se ne è accorto ne facciamo un po' meno soprattutto Ilaria riesce a farne un po' meno ma perché il tempo ora è sempre meno perché abbiamo 2000 cose da fare e il problema non è tanto girare il video quanto poi metterlo su quindi uploadarlo ci vuole almeno io ci metto una vita e montarlo non che non che faccia questi montaggi da grande regia però però ci vuole ci vuole tempo e a volte quando uno è stancato torni la sera non ce la fai però 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 mi fa piacere mi diverte fare i video è una cosa che che mi diverte infatti il nostro canale nasce così nasce per gioco la prima decisione fu quella di aprire il blog dopodiché venne questa cosa di video a me ha sempre divertito quindi ho continuato a farli e continuerò magari ecco non con la frequenza dell'inizio all'inizio ne abbiamo fatti tanti ne abbiamo caricati però ora ora c'è il tempo un pochino di meno e e quindi volevo salutarvi volevo ringraziarvi ultimamente non ho comprato niente perché sto sto incasinatissima e mia madre mi corregge di ben dirmi non si dice incasinatissima che parolacce quindi sono impegnatissima e quindi non sono riuscita non sono uscita più che altro sono sempre andata qua là diciamo che non sono andata a spazio a fare shopping ecco quello no quindi non ho comprato niente di nuovo a parte le ultime cose dell'ultimo video che vi ho fatto vedere vorrei poi parlarvi di un po' di prodottini magari che ho usato però ho finito un altro po' di robette quindi su quelle potrei parlarvene e questo video è una noia mortale ergo lo chiudiamo qua niente grazie grazie mille e niente sono contenta rimaniamo pochi ma buoni grazie a tutti gli iscritti e un bacione ciao